L'amministrazione comunale ha deciso lo scorso anno di sistemare, riqualificare tre rotatori di Fano. La prima è questa, i cui lavori sono quasi terminati, anche se l'effetto ottico non rende bene perché ovviamente abbiamo piantato delle essenze per cui ancora si vede poco. Quindi quella tra via Aldomoro e via Fanella. Domani mattina inizieranno i lavori tra gli interquartieri Sandro Pertini all'intersezione con via 4 Novembre e successivamente sistemeremo anche la rotatoria che si trova lungo gli interquartieri all'uscita della superstrada. Quindi siamo voluti intervenire direttamente su tre rotatorie che ci sembravano meritevoli di essere curate, soprattutto lungo gli interquartieri e che ovviamente danno lustro anche alla nostra città. Ad esempio questa rotatoria che è quasi terminata, che è fatta con materiali drenanti, richiama i colori tipici della città di Fano, il bianco e il rosso, ma richiama anche alcune, come dire, la nostra storia se volete. Perché ci saranno visibili le onde del mare, quindi è stata graficata il mare verso il centro e anche la centurazione romana nella parte più verso la collina e vogliono rappresentare la città di Fano. Ovviamente i lavori ancora non sono finiti, ci sarà prossimamente anche l'illuminazione, oltre che le essenze cresceranno e daranno anche un aspetto diverso. Sono state appena piantate e dunque ancora non danno quell'effetto desiderato dai tecnici. L'architetto Rita Carbonale ha seguito questo intervento, quella di Taccini di Pergola, che come detto, anche con la collaborazione ovviamente di Aset, perché in alcuni casi abbiamo per dare vigore e per far durare meglio le essenze piantate, portato anche l'acqua all'interno delle rotatorie. Dunque i lavori procederanno spediti nei prossimi mesi, ma questa rotatoria è perciò che è finita e quindi inizieremo le altre, come vi ho appena detto.